Con Alessandro Pizzari c'è rabbia, c'è delusione, ma c'è anche la consapevolezza che il Pescara ha fatto una grandissima partita. C'è molto più consapevolezza del gruppo che siamo, perché è una partita condizionata dall'uomo in meno. Giocata così, penso che sia da grande squadra da grande gruppo. Che mi dici tu sui 90 minuti? Su? Sui 90 minuti. Secondo me abbiamo fatto una grande prestazione. Ognuno si sacrificava per l'altro. Scusami se c'è il fiattone, ma ho fatto tutti questi scalini. Siamo in diretta. Penso che nella nostra sconfitta ci sia tanto da tenere conto e da farne tesoro. La cosa che ti è piaciuta di più di questo Pescara? Il fatto che un uomo in meno è sembrato quasi che stessimo dominando la partita. Quindi penso che la capabilità di non mollare, di non farci condizionare da un episodio sia stata fondamentale. Dal punto di vista della gestione degli episodi, come ti è sembrata della direzione arbitraria? Non voglio parlare della direzione arbitraria, perché penso che non sia mio compito, diciamo così. Non sta mai a giudicare.